5 destra 3 gira e chiude in sinistra 2 80 sinistra 3 meno 80 sinistra 1 destra 3 apre apre 80 destra 1 80 80 destra 2 apre 100 apre 100 entro a sinistra le cincan destra 300 in sinistra 1 destra 3 gira in sinistra 2 80 sinistra 2 80 sinistra 1 sinistra 2 sinistra 1 sinistra 1 apre 100 sinistra 1 sinistra 1 sinistra 1 sinistra 1 destra 2 sinistra 2 sinistra 1 att Chainz destra 3 in 100 destra 2 in sinistra 1 destra 3 chiude gira e chiude alla fine chiude alla fine sinistra 2 80 sinistra 3 80 sinistra 1 destra 3 due tempi e apre 80 destra 1 80 ritarda sinistra 1 80 destra 2 apre apre 100 cincana entrata a sinistra vantesca 3 destra 3 100 100 dentro a 2 destra 1 destra 3 gira e chiude la fine 80 80 83 80 sinistra 1 destra 3 2 trempi apre 80 destra 1 80 sinistra 1 ritarda 80 destra 2 apre 100 50 poi 10 20 20 20 20 23 24 25 25 26 26